Una. Iniziamo questa nuova avventura di vaccinazione a domicilio. È importante perché i pazienti la stanno aspettando da tempo. L'organizzazione purtroppo è stata un pochettino lenta perché i vaccini li abbiamo presi lunedì mattina, martedì per tutto perché mancava il Moderna. Quindi la situazione adesso speriamo che si evolva verso una cosa più soddisfacente per i pazienti. Certo che ancora ce ne sono tanti da vaccinare. Ce ne sono anche oltreottantenni che si possono muovere e quindi per quello stiamo attrezzando con i comuni, soprattutto con i più disponibili, a fare delle zone dove si possa vaccinare in prossimità. Quindi sicuramente intercomunale o comunale le faremo a breve con il sostegno della Croce Rossa, la Protezione Civile. Adesso vedranno i comuni come dobbiamo organizzarsi. L'importante è dare per ogni equip territoriale, quindi nel nostro territorio sarà da Lucrezia fino a Fossombrone, un telefono, un punto dove la gente possa dire, anche quelli che si possono muovere, prendere appuntamento col proprio medico in strutture pubbliche. Quindi è importante, adesso abbiamo fatto oggi una call con la Regione, proprio per strutturare, dobbiamo dare delle risposte a breve dove appunto queste gente di volontariato, Croce Rossa eccetera metteranno a disposizione o numeri, se non lo mettono loro deve fare il distretto. Quindi in qualche modo dobbiamo dare delle risposte alla gente, perché gente a casa ancora e gente che non sa cosa deve fare, ce ne sono tante. I medici, i vaccinatori, perché ci sono alcuni che purtroppo non hanno voluto partecipare a questa campagna vaccinale, me ne duele, però ci sono. Saremo una ventina noi che cominciamo a fare su 27-28 insomma totale, però abbiamo bisogno di tutti e i pazienti, perché i pazienti a domicilio saranno fatti dei conti in 200-300, 300 sicuramente. E quindi anche abbiamo bisogno, infatti dicevo oggi abbiamo parlato con la Regione, con l'Azur, per far sì che anche altre figure possano andare a vaccinare, tipo continuità assistenziale, medici USCA fuori servizio, medici specializzanti eccetera eccetera. Bisogna solo capire come ritribuirli e in qualche modo come inquadrarli, però abbiamo bisogno di loro come il pane perché noi non riusciamo a fare tutto a domicilio, sicuramente no.